Ma il 5G farà davvero male alla nostra salute? Finalmente affronto questo argomento, me l'avete chiesto veramente in tantissimi e mi spiace solo che a riguardo di questo argomento mi siano arrivati dei commenti molto poco rispettosi e fin troppo estremisti che a riguardo di qualsiasi argomento è sempre sbagliato, ecco, secondo me avere questa posizione e inevitabilmente mi trovo obbligato a cancellare questo tipo di commenti non perché diano poi troppo fastidio a me ma perché voglio che intorno ai miei video si crei una community di persone che vogliono discutere sì ma su fatti concreti, su informazioni e che non vengono sotto i miei video per cercare di insultare chi non la pensa come loro quindi spero vivamente che sotto questo video dove per l'appunto l'ho anche sottolineato verbalmente qui volutamente all'inizio del video non debba vedere questo tipo di commenti ma che tutti portino a una discussione costruttiva a cui vorrei partecipare volentieri anch'io e l'ultima premessa prima di cominciare perdonate l'introduzione sapete che non sono solito farlo ma probabilmente la portata di questo video sforerà il limite del mio numero di iscritti e quindi vorrei che le cose fossero chiare fin da subito visto che l'argomento è un argomento importante dicevo, l'ultima premessa è che in questo video non sarò ancora in grado di rispondere a tutta l'intera faccenda questo perché è una faccenda complessa e in secondo luogo perché non ho ancora raccolto tutti i dati necessari per arrivare a darvi un'illustrazione completa a 360 gradi di tutta la questione e quindi, come mi è stato già detto in alcuni commenti non pensate alla fine di questo video che abbia tralasciato alcune cose volutamente perché non le voglio affrontare è semplicemente che le voglio affrontare al momento giusto e nel modo giusto fate queste premesse, cominciamo e parliamo di questa cosa perché veramente online sta dilagando quasi il terrore dell'arrivo del 5G con gente che dice che il 5G porterà il cancro che ci saranno un sacco di radiazioni in più rispetto al passato proprio per l'arrivo del 5G che il 5G ci fonderà il cervello che sarà la fine della specie umana e così via quindi in questo video cominceremo a fare chiarezza per quanto riguarda il nostro territorio, la nostra penisola ossia l'Italia e già qua uno dice, ma come? cioè, parliamo solo dell'Italia? cioè il 5G non arriva solo in Italia arriva nelle altre nazioni anche allora perché bisogna limitare il discorso solo all'Italia? beh, diciamo che questo è un aspetto veramente fondamentale da cui partire perché il motivo principale per cui è arrivata tutta questa ondata di critiche e di scetticismo nei confronti della pericolosità verso la nostra salute del 5G deriva proprio dal fatto che si sono riportate delle notizie estere all'interno della nostra penisola contestualizzando quindi una notizia che veniva da altri paesi all'interno dei nostri confini nazionali e questo ha portato inevitabilmente a un eccessivo allarmismo e anche a fare in un certo senso un po' di disinformazione vediamo subito perché dovete sapere infatti che la quantità di campo elettrico che deve essere presente all'interno di una nazione perché è poi questo il problema di cui stiamo parlando è definita dalla nazione stessa la maggior parte di queste notizie infatti arrivavano soprattutto da oltreoceano dagli Stati Uniti dove molte città o meglio alcune città avevano deciso di respingere l'arrivo del 5G fermarne lo sviluppo perché preoccupati dai risvolti che potessero avere sulla salute umana e questa di per sé non è una fake news è vero negli Stati Uniti esistono persone preoccupate per questo aspetto ma perché lo sono? perché negli Stati Uniti il valore massimo di campo elettrico consentito è di 60 volte al metro che detto così non significa giustamente niente perché abbiamo bisogno del termine di paragone con la nostra nazione ma facciamo prima un passo intermedio sapete quanto è nella maggior parte dei paesi europei? 40 volte al metro ma non ci fermiamo qui perché abbiamo detto che vogliamo arrivare da noi sul nostro territorio sapete quant'è il limite massimo di campo elettrico sul nostro territorio nella nostra penisola italiana? 6 volte al metro 10 volte di meno di quanto è negli Stati Uniti e quindi questo che cosa significa? significa che non è importante 5G, 4G, Wi-Fi o qualsiasi altra tecnologia wireless ciò che viene da pensare è che negli Stati Uniti le perplessità legate al 5G siano soprattutto legate a questo limite massimo che probabilmente potrebbe essere raggiunto introducendo la tecnologia 5G ma è chiaro quindi che la questione non è tanto sulla tecnologia 5G in sé ma sul limite massimo che è stato fissato e che probabilmente le città che abbiamo citato prima ritengono eccessivo la cosa è interessante perché alla fin della fiera ci fa capire che possiamo rimanere abbastanza tranquilli per quanto riguarda il nostro territorio e anzi questi dati, questo video deriva da una chiacchierata che ho avuto la possibilità di fare in un evento organizzato da Huawei a riguardo proprio del 5G con un esperto del 5G di Team ed è proprio lui la persona a cui ho riportato le domande che mi avevate posto nei commenti riguardo questo argomento ed è lui stesso che mi ha dato questi dati aggiungendo anche che il fatto che in Italia questo limite di campo elettrico sia così basso implica anche delle differenze rispetto anche all'implementazione che si farà del 5G qui da noi rispetto ad altri paesi perché dover rispettare questo limite significa dover limitare la potenza con cui trasmettono le antenne 5G ed è proprio per questo motivo che la potenza di queste antenne sarà all'incirca molto simile a quella delle antenne wifi che siamo classici utilizzare all'interno delle nostre case ma tra l'altro è anche proprio per questo motivo che sarà necessario installare un grosso numero di antenne rispetto ad altri paesi e quindi sì, ok, col 5G dovremo installare un grossissimo numero di antenne rispetto al passato come spesso sentiamo dire negli articoli allarmistici proprio riguardo dei problemi di salute legati al 5G ma questo, soprattutto nel nostro paese è dovuto anche al fatto di dover abbassare la potenza di queste antenne e pensate che per rispettare i 6 volt al metro sarà anche necessario abbassare o addirittura spegnere i segnali 3G e 2G ma tutto questo ancora a quale fine? al fine di proteggerci in maniera anche probabilmente fin troppo eccessiva perché 6 volt al metro se li paragoniamo va bene i 60 volt al metro degli Stati Uniti può essere un valore esorbitante ma i 40 volt al metro che hanno in tutti praticamente i paesi europei noi, ripeto, siamo a 6 quindi è veramente un valore bassissimo dai problemi che potrebbero derivare da un'eccessiva presenza di campo elettrico quindi concludendo non so se negli Stati Uniti o in altri paesi europei il 5G potrà portare dei problemi legato all'elevata presenza di campo elettrico ma quello che è certo è che qui in Italia parlare di un rischio di questo tipo non ha alcun senso allora